partite e allora vediamo subito come si va sviluppando la gara ed è la menzana seguita dalla bellusco poi rolling bosica poi seconda squadra di bellusco olimpiadi pattinatori siracusa e gruppo cosminiale ed ecco lì nuovamente in zona cambio hanno cambiato tutti io come riescono a trovarsi in quel proviglio ancora non lo so sono dei fenomeni ed ecco lì nuovamente in zona cambio ci sono premati menzana gruppo cosminiale olimpiadi pattinatelissima scusa rolling bosica attenzione attenzione c'è una doppia caduta signorazza attenzione altra caduta qua altra caduta dopo il cambio però la troppa del bellusco la squadra dell'ora è eliminata qualificata qualificata scusate qualificata e allora Siena e lusco rollin bosica 1084 eliminata la squadra di bellusco ecco l'abbiamo mensana bellusco rollin bosica e poi l'altra squadra di bellusco bosica eliminato bosica eliminato l'altra squadra di bellusco benzana benzana bellusco mosica bellusco mosica rollin bosica rollin bosica eliminato fermarsi rollin bosica benzana ma cambia bellusco cambia bellusco cambia bellusco cambia e poi l'altra squadra di bellusco a passaggio di meno tre sono i più ultimi cambi ed eccolo il cambio dell'atleta del Siena di meno due che ormai la gara non ha più una perché agonistica possiamo iniziare con un lungo applauso con il potere questi atleti ultimo cambio ancora la lua mensana fermi a fare bellusco cambia per l'altra squadra di bellusco ed è bellusco 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 e poi lì ecco qua che arriva l'altra squadra di bellusco addeccolo signore e signori grazie per questa gara abbiamo concluso questo campionato